Ho avuto la fortuna e l'onore di conoscere e frequentare Joachim Navarovals per un lungo periodo e ho realizzato questa scultura con grande felicità anche perché parla di un tema tra i più umani che è quello della benevolenza, la capacità di essere generosi, disponibili verso gli altri, accoglienti verso gli altri. Io ho usato due figure che si guardano l'un l'altro lavorando sul concetto dello sguardo dell'altro che dà senso al nostro esistere.